La prossima settimana sosteniamo le famiglie reggiane in difficoltà economica con alimenti. Riforniremo infatti il supermercato solidale d'ora di prodotti. Le famiglie certificate in difficoltà economica e l'80% sono reggiane possono accedere a questo supermercato per fare la spesa gratuitamente e controllata. Se tu porti uno di questi alimenti, leggi sotto, noi ti offriamo uno sconto del 50% per un massaggio, uno shatsu, una VBS oppure un personal. Oppure un omaggio per un tuo amico al nostro centro.